Il centro di Alisi di Ugento risulta essere da tempo chiuso e non funzionante. Il presidio di Via Cosenza, inaugurato il 4 luglio scorso e afferente al distretto sociosanitario di Gagliano del Capo, presenta otto posti letto che, moltiplicati per quattro turni, dovrebbero offrire una potenzialità erogativa di trattamento per 32 utenti, i quali potrebbero utilizzare il servizio in un territorio ad alta densità turistica. A distanza di pochi mesi dall'inaugurazione, però, le prestazioni sanitarie offerte dal centro sembrerebbero essere state sospese, secondo quanto ci ha confermato anche il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, che abbiamo raggiunto. Per avere maggiori chiarimenti, non posso nascondere il mio rammarico per quanto è successo per il centro di Alisi di Ugento, che purtroppo abbiamo inaugurato e messo in funzione, però dopo circa tre mesi hanno dovuto chiuderlo. Capisco le difficoltà da parte della ASL, che non potendo reperire personale medico ed infermieristico, ha dovuto chiudere questo servizio. Però io, siccome abbiamo impegnato importanti somme e abbiamo aperto questo importante centro di Uguala ad Ugento, con l'auspicio che i turisti che vengono ad Ugento possono soffrire di questo importantissimo servizio, beh, io ho chiesto immediatamente un incontro con il direttore generale, il dottore Rossi, e quindi mercoledì prossimo sarò da lui. Il primo cittadino spera che presto il centro di Alisi possa tornare operativo, continuando ad essere l'esempio di una sinergia tra istituzioni, che si pone a beneficio dei cittadini fornendo un servizio necessario ed essenziale. Se qualcuno riesce a fare qualche piccolo giorno di vacanza, avere la possibilità anche di fare la dialisi sarebbe un importante segno di civiltà, anche da parte di chi finalmente aveva chiesto di poter aprire questo centro.